Se nel mondo dell'ufficio stiamo intraprendendo, aprendo il solito del marchio Coffis, una parola che dice il caffè in ufficio, nella casa stiamo pensando alla work in casa, cioè al lavoro in casa e in particolare sulla cucina. I mobili sono della serie More e della serie Deck che sono sostanzialmente già presenti nelle collezioni ester e sempre di più l'ufficio diventa domestico e sempre di più la casa diventa anche un nuovo lavoro.